Grazie a questo nuovo video, oggi vi farò mostrare i miei telefoni Iniziamo con un iPhone 7 Plus, resistente all'acqua con doppia telecamera e con un design molto bello Un Samsung Grand Prime Fa delle foto molto ottime Poi passiamo al Samsung Galaxy S3 Neo E' un Samsung semplice, non troppo costoso e non troppo bello Poi passiamo al Huawei, questo non è molto bello Ma anche questo è molto semplice, fa delle foto ottime Dopo abbiamo un Samsung, con i vecchi vecchi con i pulsanti E un Nokia, ancora vecchio vecchio con i pulsanti Allora lasciate un bel like e iscrivetevi al canale